Scusa Raffaele, ci accusano che siamo troppo lenti a fare la manovra. Ah, vabbè, vabbè, perché loro sai cosa, loro sono tristissimi perché loro, i soldi che noi abbiamo dato per i mozzi bebè, per indicizzare le pensioni, li volevano dare alle cooperativi di su Manoro, li volevano dare alle ONG di Panzeri, quindi sono tristissimi. Ma non è che stanno musicando perché loro la manovra l'hanno approvata il 30 dicembre e noi sembra che la faremo prima, il 9 dicembre. E noi siamo stati pure gentili, perché noi che crediamo davvero nel dipartito parlamentare abbiamo deciso, avremmo potuto non farlo, di spostare il voto a domani. Domani? Vi è andato qualche ora in più per studiarsi la manovra che ormai è incardinata alla Camera già da quanti giorni? 10-15 giorni? Sì, 10-15 giorni. Beh, quindi potremmo studiare un po' di più. Eh, non lo so se si fa leggere.